Centivi ascoltatori per il vostro divertimento e un piacere, fai sentarti l'ultimo arrivato all'impello per l'utroficita delle fai e opportunità alla star. Miei cari ben trovati, dove sono non lo so, o come ci sono arrivato, ma so che presto lo capirò. Di certo io non sono un santo, non è il ruolo adatto a me, ho già assaggiato il peccato, ma voglio un pasto davvero re. Ehi, ehi, quando sulla via ti troverò, del tuo dolore io mi sazierò, a tutto che mi piacerà, che dici sono pazzo pure no. Sono morto ormai già da un bel po', ma non credo che riposerò, te scosterò a gritare e supplicare quanto mi divertirò. L'espa! 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 L'es